Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo episodio di The Last of Us In verità ho avuto un po' di problemi con l'audio non del gioco ma bensì del microfono quindi probabilmente alcuni filmati sono andati in mute senza la mia voce, ma vabbè comunque non ha la grossa importanza quindi il gioco l'abbiamo giocato lo stesso ora siamo, diciamo così a questo punto dove mi sto fermando a cercare qualcosa di utile visto che lo spazio è abbastanza vasto qui questo avvione qua si è incastrato per vedere se riusciamo a trovare qualcosa di di utile, diciamo qualche piastrina magari vediamo un po' se c'è qualcosa di utile continuo a pensare veramente che questa nautidocua facciano ogni titolo che sviluppino facciano comunque sempre dei capolavori quindi sarebbe magari il caso anche di fargli magari perché no sviluppare un gioco di calcio magari potrebbe essere un'alterativa valida da FIFA e a PES magari peccato non sei niente magari c'era qualcosa nell'alto livello che ho già preso insomma dopo devo andare ah beh le mie amiche sono lì che mi aspettano in verità è un periodo che sono anche abbastanza raffreddato quindi se non avete sentito la mia voce direi che va ancora meglio e ogni volta che c'è un suono un suono, un tono in verità il joypad vibra sarebbe bello vedere questo gioco magari sviluppato visto che hanno fatto secondo me un gioco che ho giocato magari chissà mai che non lo rigiochi magari postando qualche video su youtube sarebbe bello magari vedere ormai andiamo dalle nostre due amiche sennò si incavolano magari ho fatto questo gioco in versione HD cioè HD nel senso di New Generation, Next Generation chiamatola come mi pare sarei molto incuriosito di vedere cosa verrebbe fuori da questo Tomb Raider l'hanno fatto potevano farlo pagare meno io non lo prenderò di sicuro l'ho giocato sulla PS3 non vedo la necessità vabbè vediamo se c'è qualcosa di utile qui vediamo se c'è qualcosa di utile qui vediamo se c'è qualcosa di utile qui da qui allora stavano andando di là direi che se mi butto da qua faccio una brutta fine va bene ma che cacchio fare ma sono niente qua vabbè loro erano qua quindi per forza di cose io vabbè vabbè vanno su di qua io provo ad ora applicarmi vediamo un po' ma questi cassetti qua che mi dicono aprimi e poi non c'è nulla cos'è sta presa in giro qua che non capisco porca c'è miseria ok vabbè andiamo a farci un giro anche qua prima di proseguire chissà mai che non trovi qualcosa vedo grigia temporale incombe è un bel temporalone ho visto qualcosa qui da prendere che non so cos'è, è una bottiglia chissà cosa pensavo mi ero illuso di trovare qualcosa di più diciamo così importante vediamo se sono venuto di qua è stato fatto a pezzi si caricatore niente non me lo può prendere si andiamo via allora di là non si passa allora oddio noi siamo venuti da qua quindi dobbiamo andare di qua si passerà di qua qui c'è la scala qui non c'è niente no ok non ci bastano saliamo pure queste scale un altro merda per me qua incomincieremo a trovare dei contagiati insomma di questi secondo me non cazzo un clicker è così dopo anni di infezioni quindi sono che ha ok però prima di aprire questa porta non aprirla voglio andare su come i pipistrelli non appena senti dei click per questa scala ok nulla di più niente non basta ora andiamo ad aprire quella porta poi andiamo a vedere cosa ci aspetterà di là al di là topi ok ok l'integratore vabbè per farmi passare da sotto occhio alla testa ok 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 prima di andare io consiglio sempre prima di andare in una stanza visto l'importanza che hanno qua certi elementi trovati consiglio sempre di guardare di guardarsi ben attorno prima di proseguire che tanto non c'è fretta ok 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 Abbiamo fatto il primo incontro con queste nuove creature Preferisco questi che quelli che sparano Vabbè, direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video di Velastofas Ciao, ciao, ciao